Non si placca la polemica a distanza tra Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia. L'ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare della rottura avvenuta tra loro nell'ultima puntata di Temptation Island. Secondo quanto ha dichiarato alla rivista VIP, sarebbe stato proprio il docu-reality di Canale 5, a farle notare i difetti del suo ex compagno. Con gli occhi dell'amore, infatti, sino ad allora le era sembrato un uomo perfetto. Temptation Island è stata un'esperienza utile perché mi ha fatto capire che Manfredi non è un uomo perfetto. Io lo pensavo tale perché è stato il mio primo ragazzo e non avevo esperienze per fare paragoni. Giorgia Lucini Manfredi Mi ha sempre trattato a pesci in faccia. Nel corso dell'intervista, Giorgia Lucini è tornata a parlare di com'era la loro relazione prima che si interrompesse. Descrive Manfredi come un uomo autoritario, che vedeva in lei solo una persona da manipolare. Lui mi ha sempre trattato a pesci in faccia. Crescendo ho capito che non era giusto. Sono sicura che non gli manco, ma gli manca l'idea di me, cioè di una persona da manipolare. Manfredi è autoritario e con me controllava la situazione. Infine ha escluso ogni possibilità di tornare insieme a lui. Abbiamo smesso di vederci e sentirci. Questo non è un litigio dei nostri. È rottura. Le dichiarazioni di Giorgia, però, non sorprendono. Solo alcuni giorni fa, in un lungo sfogo pubblicato sulla sua pagina Facebook, aveva affermato. Per due mesi non ho fatto altro che ricevere insulti e minacce. Sbaglio il signor Farnicchia mi ha lasciata. Quindi io cosa dovrei fare? Stare a piangere? Non basta la figura di M. Mi ha lasciata cinquemila volte e l'ho sempre giustificato. Forse mi sono un po' rotta le scatole no? Siamo incompatibili. Non funziona così la vita, tratti di M. Ormai è troppo tardi. Ed io non sono una bambola. Chi se ne frega.